E niente ragazzi, buongiorno al vostro PepeGamer, oggi parliamo come al solito del nostro Milan, un Milan che piano piano ci sta cominciando a deludere, un Milan che non vuole questo scudetto, non ha voglia di vincere questo scudetto, perde punti, sta facendo, una partita che vincevi 1-0 e poi il nostro caro Udoge con un tocco di mano riesce a segnare al 66esimo, un gol convalidato la VAR, un gol veramente con un errore madornale come al solito, questo è il terzo errore se non sbaglio che la VAR fa soprattutto contro di noi sono ovviamente amareggiato tutta questa situazione, un Milan che in due partite contro la Salernità e l'Udinese porta a casa solo due punti e perde quattro punti la classifica come vediamo è una delle, ci troviamo a 57 punti, l'Inter deve recuperare una partita, pareggia ieri, ha pareggiatato tutto con il Genoa, l'Inter ora ci aspetta tutto il derby in Coppa Italia, ci aspetta anche l'esito delle altre partite che giocheranno oggi guardiamo il Napoli a quota 54, guardiamo la Juventus a quota 47, l'Inter è a più 1 da Napoli quindi il Napoli se vince potrebbe andare, potrebbe scalcare l'Inter Milan che da tifoso rozzonero do l'insufficienza a tutti, do veramente l'insufficienza a tutti mi stanno veramente stancando, soprattutto questi errori madornali di non chiudere la partita stavi su 1 a 0, dove chiudere la partita, squadra veramente svogliata anche se siamo stati beffati, soprattutto dal gol dell'Udinese il gol dell'Udinese è stato al 66, potevamo, avevamo altri, quasi altri 30 minuti per portare soprattutto gli attaccanti a delle azioni offensive e portare soprattutto un altro gol dovevamo crederci fino alla fine un Milan che, a parere mio, non è un Milan che può vincere, può lottare per lo Scudetto anche nonostante tutto abbiamo la fortuna che altre squadre si sono fermate tutto in queste giornate parlando anche dell'Inter come pagelle non mi sento di dare nessuna pagella perché sono tutte pagelle insufficienti nonostante tutto il gol di Leao pensava in un miglioramento tutto in questa squadra ma ho visto che vai a perdere altri due punti contro una squadra medio-bassa tanti complimenti a tutto all'Udinese che sta giocando un campionato discreto non voglio togliere niente all'Udinese ma quel gol è davvero vergognoso a convalidare nonostante tutto hai la VAR, la tecnologia che potresti far di meglio soprattutto nell'arbitraggio potresti aiutarti con una tecnologia che ti hanno creato per dare una mano soprattutto all'arbitraggio e tu invece vai al VAR convalidi il gol nonostante tutto il tocco di mano e regali questo punto all'Udinese anche contro lo Spezia convalidi soprattutto togli un gol a noi e giustamente poi perdiamo anche la partita contro la Taranitana Milan è veramente svogliato 2-2 sottovalido su tutta la squadra avversaria la Taranitana ha giocato tutta la sua partita a portare il punto a casa l'Udinese ieri ha giocato la sua partita a portare il punto a casa e anche il Genoa contro l'Inter riesce a portare il punto a casa Scudetto che non si sa chi veramente vuole portare tutto a casa vuole vincere, ha voglia di vincere perché questo Milan secondo me non ha voglia di portare a casa questo Scudetto speriamo che io veramente mi sbagli su questa situazione ma questo Milan con questa voglia non andrà da nessuna parte e deve soprattutto migliorare a chiudere le partite a non tenersene fino al secondo tempo sull'1-0 chiudere il primo tempo con due golli di scarto questo è vero Milan che io vedevo prima che amavo vedere ma in queste ultime due o tre partite ho visto un Milan veramente spento che non ha voglia, svogliato Milan perché non ha voglia veramente di vincere fatemi sapere tra i nostri commenti cosa ne pensate iscrivetevi al canale, lasciate un like e attivatevi alla campanellina per essere aggiornati sui miei contenuti bello ragazzi